Ciao a tutti! Io sono Stefania, o per meglio dire Ania Maria, e oggi siamo qui al Pinacombi, oggi è l'ultimo giorno, giorno 8 giugno. Io sono qui in qualità di Viglorians, che dopo andremo a intervistare, e per il momento facciamo un brevissimo, se ricordo lunghissimo, giro per la fiera. Mi sto inquadrando le tette? No, no, vabbè, ma le puoi inquadrare? Però, ancora io e il cameraman, dobbiamo capirci, e ciao! Sono Batman! Ciao! Ci troviamo alla mostra di Batman, il mio cameraman, che riprenda tutto, con le persone che mi guardano male, tra l'altro. Quando sarò una giornalista famosa, però, non mi guarderanno più male, giusto? Giusto, cameraman? Lei può parlare un po'? Sì, giusto. Ah, ok. Sì, giusto. Come si sta là dentro? Signore. Signore, ok. Allora, ritorni? No, ti stupi in casa. Cosa? Sì, guarda. Sì, guarda. Sì, guarda. Sì, guarda. Sì, guarda. Sì, guarda. Oh, pezzo. Sì, guarda. Sì, guarda. Perché, sì, guarda. Grazie a tutti. 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 Guarda la fotocamera e saluta il mio canale YouTube Mania Mania, vai! Ciao Mania Mania! Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti.